L Inter proverà il doppio colpo in prestito da Chelsea.Questo ciò che è emerso dopo il vertice oggi tra Simone Inzaghi e l'intera gestione.La volontà quella mantenere Romelu Lukaku a Milano, nuovo in prestito, ma non solo, Gianluca Marzio rivela Sky Sport, oggi c'è stato questo incontro tra Inzaghi, Gianghi manager si è parlato di Koulibaly e il Nerazzurri chiederà a Chelsea un prestito.Ausilio andrà a Londra per negoziare un nuovo prestito da Lukaku chiederà anche Koulibaly.A Inzaghi è stato. Detto al vertice che Inter proverà a prendere in prestito Koulibaly, ha detto l'esperto del mercato.